Ben ritrovati a tutti su Meteo Giuliaci da Andrea Raggini. La giornata di giovedì 27 maggio inizierà con addensamenti tra Calabria e Sicilia, con il rischio di qualche breve precipitazione. Durante la giornata la situazione meteorologica migliorerà rapidamente in Calabria, mentre sulle aree interne della Sicilia sarà possibile ancora qualche acquazzone. Altrove avremo cieli sereni o poco nuvolosi, soprattutto sul centro Italia, mentre al centro-nord la situazione cambierà dalla tarda a mattinata. Su Alpi e Prealpi si formeranno addensamenti che daranno luogo a qualche precipitazione, più probabile tra la Lombardia orientale, il Trentino e il Triveneto. Qui i rovesci temporali diffusi soprattutto tra Veneto e Friuli potrebbero coinvolgere anche le aree pianeggianti e verso sera scendere fin sul basso Veneto e lambire anche il Ferrarese in Emilia Romagna. La ventilazione sarà per lo più debole, i mari tenderanno a risultare calmi quasi ovunque ad esclusione dell'estremo sud. Temperature in aumento da nord a sud. Sarà una giornata piuttosto calda, con valori massimi che uscideranno tra 22 e 25 gradi, ma frequenti potrebbero risultare i picchi di 26-27 gradi, soprattutto sulle aree interne del centro, sulla Puglia, ma anche sull'Emilia Romagna. Temperature massime peci in calo sul Triveneto. Per questo appuntamento è tutto, da Andrea Raggini, buon proseguimento di giornata!